Ragazzi eccoci qua per un'altra presentazione, un saluto a tutti quanti dal fantastico mondo dell'elettronica al quale siete tutti invitati, eccoci qua appunto col nostro circuito, bene, oh ma che trionfo di luci, possiamo vedere subito la nostra lampadina incandescenza arancione che fa una bellissima luce ovviamente e la nostra spia blu, led blu, perfetto. Ok, bene, quindi vuol dire che il nostro circuito ovviamente è già alimentato dal nostro accumulatore 12V 18650, classico Leon, ok, perfetto, bene, il nostro amico contatore è tornato a farci compagnia e dare la sua utilità, ciao come va, dopo ti stringo la mano, ok, perfetto, bene. E abbiamo praticamente, allora il circuito sarà più o meno identico, ok, però abbiamo appunto spostato la nostra lampadina incandescenza viola, ok, l'abbiamo scollegata dal nostro relè che usavamo appunto e l'abbiamo invece attaccata al nostro contatore, utilizzando i contatti sotto che erano appunto i contatti, ok, dedicati, porta al controllo appunto dei carichi di potenza, cioè al classico carico, perfetto. Ok, non utilizziamo quelli sopra ma utilizziamo appunto diciamo quelli grigi, ok, come avevamo già accennato nelle scorse presentazioni, perfetto ragazzi. E quindi utilizzando sempre la tensione di soglia, del ramo appunto di soglia, praticamente noi attiveremo insomma come prima cosa un carico diciamo, ok, semplicemente chiamiamolo un carico, ok, che in questo caso appunto è la lampada incandescenza, con il nostro amico relè e lui è già attivo e ci segnala che appunto automaticamente è attivo. Perfetto, quindi salendo poi sempre con il nostro trimmer, ok, variabile, no, quando raggiungeremo poi la tensione di soglia, ok, necessaria o almeno che sia sufficiente per attivare il nostro contatore, si spegnerà ovviamente il nostro carico, il nostro relè, perfetto, e si accenderà invece la nostra lampada a incandescenza viola. Perfetto ragazzi, quindi noi cosa possiamo dire? Che useremo appunto il relè per gestire dei piccoli carichi e invece il contatore che è abituato a delle correnti elevate e quindi è abituato a controllare carichi di potenza tosti, ok, lo utilizzeremo appunto per controllare la nostra lampadina a incandescenza. Qui la cosa divertente è questa ragazzi, ma questo qui è pazzo, ma questo qui è pazzo, qualcuno dirà, ma per fortuna è un carico pesante, la lampadina a incandescenza, si è un carico resistivo, ma è la stessa identica, è lo stesso carico che utilizziamo appunto per il relè. Esatto ragazzi, in questo caso facciamo così, ok, poi nelle prossime presentazioni, immaginiamoci che stiamo controllando un carico di potenza, ok, anche se i due carichi sono uguali, piccolo scherzo, ma nelle prossime presentazioni arriveranno dei carichi tipo motori eccetera così. Perfetto ragazzi, sono pronto, ok, e quindi adesso diamo l'alimentazione col nostro amico switching, o meglio alimentatore, siamo a zero, perfetto, ecco che si spegne già 4 volts, ok, però ovviamente il carico nel mio contatore resta così per adesso, è spento, o meglio non è attivo, perché io non ho raggiunto la tensione di soglia nel schema necessaria per attivare il mio contatore. Ci ricordiamo quanto è? Esatto, 24, 25, perfetto, e quindi saliamo, 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 12 volts, non ci siamo, 14 nemmeno, andiamo su, andiamo su, perfetto, perfetto, ok, ok, oh, oh, sì, allora il contatore è sempre lo stesso, però probabilmente devo aver preso l'altro che è danneggiato che si attiva con 30 volts, comunque ecco qua, che si è attivato, perfetto. Quindi automaticamente poi si spegneva già la spia blu, si accende quella verde, perfetto, e ci segnala automaticamente che il nostro carico è attivo, o meglio il nostro contatore è attivo, e quindi automaticamente starà alimentando il nostro, la nostra utenza, perfetto, utenza in questo caso no, perché non siamo in alternata e non stiamo utilizzando appunto le tensioni di rete. 230, perfetto ragazzi, ok, se avete qualche domanda scrivetemi sotto, è un piacere rispondervi, e buona costruzione a tutti e un saluto dal gruppo. Ciao a tutti e alla prossima presentazione, ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.